Sì, scuola di musica? Sì, sono Mario, sono qui per il corso. Salga. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, sei appena arrivato? Eh, già. Piacere, Andrea. Come è andato il viaggio? Tutto bene. Solo che veramente sono distrutto dalla stanchezza. Abbi pazienza, ma io riposo due o tre minuti, tipo. Abbi pazienza, ma io riposo. Dai, Mario. Dai, sveglia, eh? Stanco, Mario? No, di più. Sono morto. Sai cosa mi ci servirebbe a me? Cosa? Fiumi d'alcol. Sei un genio. No. 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 Che succede? Siamo in un'altra versione, dal lato verso il basso, dal basso verso l'alto rispetto allo schema che stavamo osservando, il depth per l'espansione. Per una di queste due categorie di controllo della gamma dinamica abbiamo la possibilità di esprimere dei contenuti diversi rispetto alla presentazione. Ehi ragazzi, ma dove andate? Jacopo, Francesco. Mario? Mario? Mario, non vorrai fare tardi il primo giorno di scuola? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.